Guardi che noi siamo stati toccati in questi giorni da una sentenza da parte di un tribunale, il tribunale di Milano, che vuole impedire in questo paese di utilizzare il nome clandestino, esattamente quando in Italia c'è il reato di clandestinità. Allora, c'è un pensiero tale per cui si vuole criminalizzare chi non si uniforma al conformismo filo-immigrazionista? Va bene, noi a questo pensiero unico non ci stiamo, quindi credo che sia legittimo usare il termine zingaro, credo che sia legittimo utilizzare il termine clandestino, se vogliamo nascondere a questa realtà i cittadini italiani noi abbiamo il coraggio di dire che esistono anche queste realtà che ovviamente vanno gestite, ci sono delle regole che vanno rispettate e noi siamo per il rispetto delle regole. Molte, mi permetto.